Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico, io sono Issam e oggi sono molto emozionato a farvi vedere questo elicottero. Questo è il mini elicottero a basso costo, più bello, più tecnologico, più robusto, più agile, pronto al volo con tutto quello che vi serve. Addirittura arriva anche con quattro batterie se volete perché c'è sia con una batteria o con quattro batterie. Arriva in mod 1, mod 2 ma si può anche cambiare eventualmente se volete perché arriva anche con la radio. Non solo nonostante la sua dimensione, costo eccetera eccetera è impressionante come vola e riesce a fare 3D questo quadricottero ma è impressionante anche quanto è stabile in modalità stabilizzata perché ha anche un accelerometro che funziona anche per il salvataggio perché eventualmente se state facendo 3D o state tentando di fare 3D in caso di problemi flippate uno switch e ritorna stabilizzato si ribalta in automatico anche in volo e vi salva eventualmente. Non è proprio per principianti come performance ma si potrebbe anche utilizzare da principianti visto che si può utilizzare in modalità stabilizzata. Guardate che bellezza che design sia dal punto di vista tecnologico ma anche di bellezza davvero molto molto bello da vedere e anche da sapere di che cosa è fatto. Abbiamo una canopy, certamente non è una canopy in fibra di vetro ma comunque io vi dico cioè quando cade queste canopy qua proteggono di più in più. Abbiamo anche una doppia protezione all'interno della canopy dei componenti più sensibili che è il flight controller ed è un elicottero fly barless con uno swash plate metallico. Anche le pinzette delle pale sono bellissime, sembrano molto robuste, sono metalliche, sono molto spesse. I servo sono servo metallici ma la cosa fondamentale di questo elicottero è che direct drive come potete notare qui abbiamo un motore molto largo ed è un motore 2507 da 800 kv. Direct drive vuol dire che non abbiamo nessun ingranaggio ma il motore è direttamente collegato all'albero del rotore principale perché questo è molto vantaggioso. Perché al 99% delle volte che tocchiamo anche una pala con il terreno andremo a strappare gli ingranaggi che non abbiamo in questo elicottero. Se dovessimo fare un crash super mega forte andremo a piegare l'albero del rotore principale quindi lo cambiamo molto facilmente, rimettiamo tutto a posto, cambiamo eventualmente le pale se dobbiamo e lo riportiamo in volo. Non solo abbiamo anche un motore di coda brushless, il frame è tutto modulare, abbiamo delle parti in fibra di carbonio, delle parti in plastica che se si rompono e si devono rompere si possono cambiare facilmente però evitiamo di rompere le cose complicate da smontare. Per quanto riguarda i carrelli sono in plastica flessibile, sembra ABS, la batteria con la quale arriva questo elicottero è da 500 mAh 11,1 volt quindi 3 celle e io ho scelto il modello con 3 batterie in più quindi 4 batterie in totale. E con questo elicottero arriva questo telecomando del quale abbiamo visto una recensione e un tutorial dettagliato che eventualmente se ne avete bisogno ve lo lascio nella descrizione del video. Non arriva con le batterie ma ho messo io le mie 4 batterie ma questo elicottero accetta anche delle riceventi esterne con protocollo SBUS o DSMX. Infatti questo connettore è da 3,3 volt per le riceventi della Spectrum se avete una radio Spectrum o se no potete anche collegare qualsiasi altra ricevente della vostra radio. Ovviamente nella descrizione del video troverete link a coupon sconto sia alla versione ready to fly che ho in mano con tutto quello che vi occorre per volare o se volete potete prendere direttamente solamente l'elicottero e mettere la vostra ricevente. Questa cosa che sconsiglio in realtà perché la differenza di prezzo è molto poca e molto più vantaggiosa prendere il kit completo con le quattro batterie e tutto quello che vi serve incluso anche un caricabatterie USB. Ovviamente essendo un caricabatterie USB potrebbe sembrare lento a caricare in realtà se lo collegate a una sorgente di energia che sia un caricabatterie di un cellulare o qualcos'altro a 5 volt 2,1 ampere. Qua scrivono 2,5 ampere come input massimo in realtà di caricabatterie da 2,5 sono davvero rari quindi fondamentalmente troverete 5 volt 2,1 ampere o meno. E qua scrivono 11 come output 11,1 volt 2 ampere in realtà questo 2 ampere è impossibile perché se ci metti dentro 12 watt circa non puoi uscire con 24 watt. Perciò sicuramente caricherà al massimo a 12, qualcosa o 12 watt diciamo 11 watt a spanne e perciò sono 1 ampere di output che ricarica una batteria da 500 miliampere ora ci metterà circa mezz'ora a caricare una batteria. Il che è davvero molto rapido ma non fa molto bene alle batterie caricarle a 2 c e perciò vi consiglio se non avete fretta di collegarlo a un caricabatterie da 1 ampere se avete fretta qualche volta si può fare. In alternativa se volete caricare velocemente ovvero 4 batterie contemporaneamente vi consiglio questo caricabatterie che è uno dei migliori che ho provato nel 2021 anzi correggerei direi uno dei più utili che è del 2021 ed è a basso costo che vi lascio il link nella descrizione del video che vi carica 4 batterie contemporaneamente e ognuna la impostate a 0,5 ampere. Ci mette un'ora a caricarla però conservate meglio la batteria vi dura più cicli. Collicine E150 arrivano due pale di scorta se vi chiedete la lunghezza del rotore principale è di 355 mm. Arrivano anche due piccole rondelle in nylon che si mettono nella parte superiore tra la pinzetta del rotore principale e la pala per fare da frizione e due gommini in più di ricambio per la canopi. Abbiamo un'elica di coda di scorta, una chiavetta a brugola per cambiare l'elica e un cacciavite strano con una punta molto strana che non ho capito esattamente a cosa possa servire tranne che spingere l'albero motore dopo aver allentato questa vite con la chiavetta a brugola per cambiare eventualmente l'albero. E se vi chiedete quanto pesa questa piccola bestiolina beh con la batteria pesa solamente 174 grammi e volevo farvi notare questi carrellini di atterraggio quanto sono flessibili davvero davvero impressionante. Ve lo faccio vedere anche qua si spingono completamente fino in fondo non solo è impressionante la qualità della testa fly barless infatti non c'è assolutamente nessun gioco sia verticale che orizzontale davvero impressionante la qualità e mi piace un sacco. E per quanto riguarda i manuali di istruzioni abbiamo il manuale di istruzioni dell'elicottero che devo dire è scritto malissimo è scritto in chinglish non ci sono purtroppo tantissime informazioni e le informazioni che ci sono non sono molto chiare ma comunque sia in questo video che nel video del volo cercano di spiegarvi il tutto. Ci danno anche una curva del passo e una curva del gas sia in modalità normale che 3d di riferimento e per quanto riguarda il manuale di istruzioni invece del telecomando che avevamo già visto come ho detto in un altro video è abbastanza completo e c'è tutto quello che c'è da sapere da sapere oltre al video che avevo fatto. Per quanto riguarda il collegamento radio tra la radio in dotazione e il sistema fly barless dfc viene utilizzato l'SFHSS quindi se volete utilizzare una radio tipo della jumper o della radio master che è multiprotocollo si può bindare tranquillamente con questo protocollo direttamente senza nessuna ricevente. Mi piace tantissimo che abbiano messo questi connettori che partono dall'ESC e vanno ai tre cavi del motore qui esternamente che possiamo smontare tranquillamente eventualmente se dovessimo cambiare il motore anche se è davvero molto difficile che dobbiamo cambiarlo. Visto che direct drive e anche se si blocca non ci sono assolutamente problemi per quanto riguarda queste rotelline che non è chiaro cosa siano nel manuale di istruzioni ve lo dico subito questo aggiusta il guadagno degli alettoni ovvero questo movimento numero 2 è per l'elevatore che questo movimento e il terzo invece aggiusta il guadagno della coda. Per quanto riguarda invece le funzioni del telecomando abbiamo il throttle hold ovvero lo switch per il disarmo dei motori così è disarmato e così invece è armato quindi non parte il motore o si stoppa direttamente infatti adesso accendo il radiocomando e la prima cosa che bisogna fare è stoppare il motore o disarmarlo prima di collegare la batteria. Una volta collegata la batteria ecco come potete notare anche se alzo il gas non parte il motore però si muove lo switch plate per muovere il passo collettivo mentre se avvio adesso quindi armo il motore e alzo un pochino vedete che inizia a partire. Quindi in caso di emergenza stiamo per crashare la prima cosa che bisogna fare è disattivare il motore per evitare o per limitare i danni più possibile anche se questo elicottero essendo direct drive come avevo detto riporterà sicuramente meno danni anche se non disattivate il motore. Ma la prima cosa da fare specialmente siamo in modalità 3d che si attiva tramite questo switch così 3d così torniamo alla modalità 6g la modalità 6g è stabilizzata da accelerometro quindi abbiamo l'angolazione limitata dell'elicottero non può rovesciarsi anche se a rovescio mentre siamo in modalità 3d e andiamo nel panico possiamo passare alla modalità 6g e si rovescia all'improvviso si livella in automatico ecco però per volare a rovescio bisogna attivare questo switch per uscire ad avere un'angolazione negativa e spingere l'aria in giù abbastanza per uscire a sollevarlo perché se attivate la modalità 3d solamente toglie l'accelerometro e non c'è più la limitazione dell'angolazione possiamo rovesciarci però vi faccio vedere subito se adesso questo switch non è attivo vedete che il gas è al minimo alzo il gas aumenta il passo positivamente quindi il rotore spinge l'aria in giù quando scendo al minimo scende con un passo leggermente negativo ma non spinge abbastanza nella direzione opposta così da sollevare l'elicottero non solo quando il gas è in giù il rotore principale perde potenza e si ferma completamente vi faccio vedere adesso anche se sblocco il motore non parte l'elica fino a quando non parto con il gas e se il gas è in giù si ferma il rotore mentre sono in aria si ferma e cado invece questo switch che si chiama idle up quando è attivo e lo stick del gas è in giù il passo positivo diventa equivalente al passo negativo dall'altra parte vedete che adesso l'elica cambia spinge l'aria da questa parte in modo equivalente alla spinta dall'altra parte quando siamo con lo stick in su vedete com'è e questa è la differenza e la seconda cosa che fa quando è attivo notate che lo stick del gas è al minimo ma questo non è vero perché sarà al massimo però in modo negativo infatti se adesso parto con lo sblocco motore vedete che parte l'elica direttamente però spinge in giù lo so potrebbe sembrare complicato ma è molto interessante molto divertente se volete volete un tutorial approfondito su come vola un elicottero ecco potete andare giù nella descrizione del video che vi lascio un video dedicato che tra l'altro era il primo video che pubblico su questo canale bene spero di avervi detto tutto in questa fase di unboxing e prima occhiata all'icine e 150 se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti che vi risponderò direttamente nel video di volo come al solito vi lascio il link a coupon sconto e tanti consigli utili sia nella descrizione del video ma potete anche trovarli direttamente su involoconissan.it e mi raccomando iscrivetevi anche al canale telegram che quando trovo un'offerta o qualcosa di interessante ve lo butto lì che vi arriva direttamente al cellulare e ciao alla prossima